ciao a tutti e bentornati con una volta su indie game play it oggi siamo nuovamente su super dungeon maker perché voglio approfondirlo e voglio fare un dungeon che ha creato durante tutta la domenica mattina ibu 90 che è qui con me e mi seguirà in streaming e a voce insomma commenterà e dirà un pochino quelli che sono stati i problemi gli aneddoti in nella creazione del dungeon intanto lo saluto ciao ibu buongiorno a tutti e il tuo dungeon dovrebbe essere tra gli ultimi creati quindi eccolo qua ibu special number one lo andiamo a provare non ha ancora commenti quindi vediamo dobbiamo fare play e lui ci osserverà ecco inizia già abbastanza bastardissima la cosa iniziamo andare a destra no lo stai giocando col padre col pad non abbiamo capriola non abbiamo niente aia ok calcola che il primo fatto non l'ho fatto difficilissimo a un bug quella quella fiamma lì a sì perché punta le tante s s s s s s s s s questo è un labirinto semplice dai cosa c'era qua niente no perché è brutto è brutto il metodo di apertura perché non si vede cosa parendi anche adesso non ho visto cosa ho preso la bomba ho preso la bomba che la vedo è brutto perché i bauli droppano solo verso il basso vedi quelli messi tutti in alto qua c'è un cuoricino e quindi ho dovuto per forza di cose mettere tutti in alto diciamo questo vuoto o che non ho trovato il tasto per ruotarli sì ma l'hai trovato comunque un po' forse anche se non dovrebbe esserlo un po' early access nella sì nel livello creazione sì perché c'è qualcosa che non funziona benissimo su tre diciamo ambientazioni questa è quella che funziona al 100 per cento in un'altra e anche in un dungeon di quelli della storia diciamo non funziona il rampino io sono fortissimo in dark souls lì c'è una chiave quindi magari la droppa uccidendo non lo so io adesso ipotizzo quindi no non mi dà la chiave così però qua si può cadere al piano di sotto cosa che però io non faccio perché voglio salire ed esplorare aia mamma mia bella sta cosa però aia non so cosa ho preso ma nel dubbio segreto come si si ma vedi che mi spoiler e se mi hai dato la bomba ci sarà un motivo infatti già l'ho visto a che spettacolo come come ho detto nel precedente video di presentazione è il sogno della mia vita poter creare un livello del genere abbiamo lo scudo che non serve ma aiuta che poi in tutti una chiave ho cuore cuore ok però ho una chiave non so neanche mi sono neanche reso contro di averla presa eccola lì e intanto apriamo la porta che poi tu l'hai fatto ci hai messo un po io non oso immaginare chi invece magari ci impiega le settimane sì esatto perché alla fine infine sarà un dungeon da 5 minuti non so cosa ho preso è un po allora c'è non so se l'hai fatto a vedere nell'altro video c'è il sandbox che è proprio nella buca della sabbia dove insegnano a creare i dungeon sì 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 certo l'abbiamo visto però non hai spiegato tutto tutto tipo alcune cose le ti avvi un po macchinosi all'inizio le porte devi creare le porte come quella che vedi qua in basso e dopo mettergli sulla porta con la chiave o questa qua che si chiude e all'inizio non lo capisci benissimo però una volta che vai dopo ci fai la mano cioè giovane io arrivo da Zelda chiave molto bene è bello articolato però e soprattutto bastardissimo perché c'è anche quel coso lì che cos'è questo il lampino lampino che non ho mai usato mai avuto ho bisogno di si può attaccare a quei bracieri tipo questo qua sotto se sono accesi ah ok non so se ho esplorato tutto qui ma eccolo qua sì infatti lanciarli nel vuoto se ci avessi messo i cuoricini non era sì infatti nooo molto male dove cavolo era il quello per cambiare forse di qua no forse di qua no qua c'è il labirinto com'è qua c'è il labirinto no infatti infatti può salire di sopra di qua no ahia eccolo qua no no aspettate che magari qua ci trovo dei cuori quelli credo che una volta poi c'è di tenere a uno ma una volta preso non sparano più sparano a l'erba ma non il cuore perché non sei tu a mettere dentro l'erba sì 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 li metto io ah li metti te ok quindi anche nei vasi anche nei forzeri ah ok fino al minimo dettaglio ma sono one shot solo poi mi è capitato nella storia se muovi riprati dall'inizio non me che sia punitivissimo le pinne? sì e cosa ve ne faccio delle pinne? e qua non torno più indietro eh no devi andare su ah è un modo per dire non torni indietro sì vado di qua sì sì è fatto posto per fare un po' di casino e ora non hai ancora esplorato sì sì va bene fatto finta volevo essere attento no no se ne ho un altro a sotto volendo ma qua posso no no ah ah praticamente nuoto senza le pinne io non potrei nuotare no ok questo è il livello di ipu se volete giocarlo anche voi non so qua posso segnalarti sì o segnalarmi ho metto il cuore sì ho metto il cuore se si può no non si può ma scusa no 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 vabbè non si può eh non lo so perché esco dal dungeon e il buon ebu l'ho giocato una volta ma io vorrei dire che mi è piaciuto lo metto da qui ah ok autenticator ah ok ok e hai un mi piace adesso tec bene ora possiamo già che ci siamo dare un'occhiata anche a un altro dungeon vediamo quelli più votati quelli più a lot of fun no bomb test I'm in danger vediamo boh quelli che sono piaciuti di più casual dungeon non so avevo visto alcuni da nome altisonante però vediamo 2300 volte giocato questo ik hab mik mal va bene mi fido ho giocato anch'io eh com'è è bello si sto gioco è potenzialmente infinito anche se secondo me bisogna fare attenzione perchè qualche baguettino c'è ancora e secondo me gli manca forse quel qualcosina in più per essere magari a livelli perchè è diventato tutto invisibile a livelli di mario maker era un bug quello ah no sono i mosti che vanno tutto ok intanto non ha senso quindi prendo il cuoricino vado su qua non c'è niente da prendere ah no c'è una porta qui però una chiave corsiere ho preso lo scudo no veramente però è una cosa da sistemare questa dei forzieri è veramente assurdo devo assolutamente trovare il vabbè intanto apriamo qua mi sembra che in questo livello qui ci sia un po' di è bello tosto questo però abbiamo detto quando crei un livello devi completarlo tu poi non li potresti si 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 quello quello è già l'ho già annunciato perchè è la porca è la stessa meccanica di no è la stessa meccanica di mario maker ah ma riparto dall'inizio ma sempre con lo scudo ok riparti dall'inizio ma con già quello che hai preso si 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 ho già quello che avevo preso allora è andato su no ma ya no devo andare giù ma poi sono un coglione sono dai eh che cacchio dai un cuoricino vi parierò uno per me eh questo mi uccide di nuovo è che si tieni schiacciato a fare l'attacco si certo no ibo non ha ancora visto il video perchè lo stiamo registrando prima del rilascio del del video ufficiale quindi non è che la trottola ti fa due caselle di raggio non una sola come già detto ho giocato a zelda links cerchiamo di andarci cioè già mi sono preso male con dark souls e sto imparando la mobile arte del soffrire in silenzio però aia ecca la uh stavo volendo finire di là cuore cuore dai ok cosa ho preso la bomba la bomba qua non c'è niente che mi può aiutare con la bomba che due maoni dai cuoricino e tanto ormai ti sei già passato allora dov'è che potrebbe andare la bomba qui si vede anche sotto la la stanza si è quella è una cosa migliorabile secondo me ok ok non so ho preso una chiave vaia sotto c'era qualcosa no andiamo via andiamo via di qua forse c'era qualcosa sì che al momento non si possono mettere nemmeno i boss quindi molto male infatti sarà da vedere sarà da approfondire però c'era un'altra sì possibilità di saltare di là no ma è tanto ma sono veramente eh ma perché mi parte lì mi aspettavo di solito se parte l'inizio della stanza chiave non lancia in diagonale a questo punto meglio che muoia comunque ha preso una chiave apriamo anche questa perché poi invece nella ventura normali c'è la chiave che apre il dungeon il dungeon sì il boss sì c'è anche il trottone grosso anche qua nei ma mi segue in una ho preso le pinne che non servono a niente se non fosse a fare backtracking per il nulla perché non c'era niente per cui servisse bene dico la verità mi avrà divertito di più il tuo comunque noi per cortesia mettiamo il mi piace exit dungeon niente io ringrazio te Ibu per la creazione del livello per la dedizione insomma speriamo che tanti giochino il tuo livello si può anche andare a cercare vedete se scrivete vediamo un po' se lo trova Ibu 90 no Ibu Ibu il nome del dungeon trovi ah è Ibu ok sorry esce Ibu Ibu special number one o lo special one insomma come volete dire ma sono numerazione perché pensando di farlo qualcuno in più magari sì allora gli manca ancora del potenziale nel senso che ha potenziale ma gli manca qualcosa i boss e la possibilità anche solo mi metti la possibilità di un NPC che parla e che mi dice qualcosa uno si crea una saga di livelli non dico un gioco di ruolo ma una serie di livelli interessanti un po' come mi viene in mente non c'entra nulla ma anche solo le missioni dei board game di ruolo insomma dove tu porti gli oggetti da uno all'altro ti crei tutte le tue avventure cioè sono stato appassionatissimo di quello ritrovarlo alla possibilità in un gioco per quanto action simile Zelda mi farebbe invasare tantissimo di quel titolo quindi speriamo magari che con la rilascio esca qualcosa magari ci si farà una live una sera per approfondirlo ovviamente dopo la rilascio e niente ringrazio ancora una volta Ibo e vi rimando ai prossimi video alla prossima e ciao ciao ciao